ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gavri io virillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo atomizzatore vai virillo facci vedere allora adali da piscione un dripperino da flower da 22 single coil ora andiamo a provare l'abbiamo preso da svapo caffè ricordiamo la marina di carara moliciara e la spezia andatela a trovare è un atomizzatore in single coil ho fatto 6 giri sulla punta da due e mezzo del filo micidiale che ci abbiamo noi all'in acciaio non so cos'è spinge bene sul meccanico spinge bene da flower da sentire bene gli aromi si sente bene ma poi tranquillamente non ha doppia resistenza che da una botta di farlo stesso il suo fumo come si deve però senti un po meglio sapore devi centrare bene la coil è facile da mettere su tipo il west nano diciamo però secondo me un pochino medio west nano ti spiegherà un pochino ma se ci metti troppo liquido ti scrive questo questo no forse sarà la campana fatta di differente capo sopra e quattro rimane un po più aperto tipo un capo da cambiare su di per ora invece questo essendo chiuso con di più tipo con più e rimane un pochino il tiro migliore secondo me migliore del west nano allora andiamo a fare una prova di svato mettendoci un po di crispi e a creare qualche confusione su questo dripperino al suo interno fai vedere cosa c'è gli abbi c'è il cacciavittino con il pin non forato e le due vitine una resistenza e io e il pin bf lo messo sopra ora ci bagniamo un pochino perché c'erano un altro liquido dentro la box 50 50 allora proviamo con questo che americano crispi a due fuori da una parte e due fuori da l'altra che vanno a un carassi sotto la distanza vaga abbiamo la pulse con la batteria 20.700 magari non è nemmeno tanto carica la materia però il suo lavoro è sempre un po' provato oggi a me già c'è davvero tanto ci sente bene l'aroma e non è troppo spinto diciamo è tranquillo tranquillo e non ti sprichi a bocca come lo supernale tutto il giorno ci sta ci sta tutto il giorno se vuoi fare un flavor si se invece sei un po' più matto che vuoi fare il dripper comunque come da 22 si comporta bene si comporta bene lo scaldano tanto lo consigliamo lo consigliamo ricordiamo da svapo caffè andatelo a trovare dalla tabella dello svapo è tutto se vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale e ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare vi aspettiamo ciao